tenni mangiadischi sostituiti quattro condensatori cinghia il trimmer il cavo di alimentazione la cinghia è questa adesso lo condendiamo è un certo che è graziano il volume se ti domando cosa fanno i tappi di champagne e la gran cassa di ignorissi suonano di ossa cosa si sente quando scoppia un lungo battito